E' addirittura d'arrivo il cantiere che restituirà a nuovo splendore alle mura di cinta del borgo di Ostia Antica. Per la prima volta i lavori vengono svelati alle nostre telecamere. Si avvia a conclusione un cantiere importantissimo per Ostia Antica. Noi ne abbiamo parlato per anni, cercando anche delle risposte. Le risposte sappiamo che da tempo sono arrivate. Adesso addirittura c'è una data di conclusione, di chiusura del cantiere, giusto? Sì, la data è il 12 agosto, come ricordava il direttore dei lavori. E dell'impresa siamo, credo, giustamente soddisfatti perché si conclude così il processo avviato già l'anno scorso con il restauro della parte pubblica per le strane evoluzioni tipiche di questo nostro paese. Una parte delle mura sono in proprietà pubblica e un'altra in proprietà privata. Quindi noi siamo intervenuti in volata sulla parte pubblica che presentava una situazione di ammaloramento strettamente confinante con rischio proprio per le persone. Ricordo che c'era un'orrenda mantovana semidissolta proprio sulla porta. Questa parte privata ha previsto un iter un po' laborioso ma che con la collaborazione dei proprietari privati si è avviato a una felice conclusione. Vale a dire che noi abbiamo utilizzato leggi esistenti, in particolare nel campo del patrimonio culturale, che nel riconoscere anche una valenza pubblica della proprietà privata e qui le mura che recintano il borgo sfido chiunque a dimostrare che non abbiano un aspetto, una valenza, un interesse pubblico, ecco sono spese che possono essere suddivise tra lo Stato e i proprietari. Si è intervenuti direttamente facendo un consolidamento e un restauro. Un lavoro impressionante, lo si capisce anche dai numeri. L'estensione lei considera che il frattorione e il mura siamo sull'ordine dei 500-550 metri quadri e i tempi sono stati, come le dicevo, i lavori sono stati realizzati in due tempi. I primi 4-5 mesi hanno interessato la sommurgenza e mettere in sicurezza la parte pubblica, mentre la parte privata ha interessato un intervento di circa 8 mesi e i costi per la sommurgenza sono stati istanziati di circa 40.000 euro e per la parte privata circa 150.000. Dal punto di vista degli uomini utilizzati una squadra di quanti? Una squadra mediamente di 4-5, in alcune situazioni anche 6 persone. Un intervento chiaramente frutto di una squadra, da quella del parco archeologico fino a ogni singolo operaio che ha saputo unire competenze e passione per il proprio mestiere con un risultato, a dir poco, sorprendente.